Oriambone e Glioparenti, Implicit Vigino Salacone, Gilder Roero, Alessandro Pittereri, One Way, Lulù, Walter De Mangone, Odile, Gianluca D'Antoni, Biancus Brog, Fabrizio Nogara, Favorito, l'1-2 Gioia. Macchina che accelera. Fuori corsa il numero 6 over med HP. L'errore del numero 2 Olmo BF. All'avanguardia Nozmoc Rivarco. In fuori c'è l'1-2 Gioia. Scolipica però il Olmo BF. L'1-2 Gioia che insiste e passa a metà della piegata. Così l'1-2 Gioia battistrada in seconda posizione. Rimane il numero 3 di Nozmoc Rivarco. L'1-2 Gioia, Nozmoc Rivarco. Poi in terza posizione Nemes Bypass e quindi fuori di Odile. Per corsi esterni anche Non Mi Prendi, DBM, One Way, Lulù. 35,9 i 460 metri. Alla media di 1,15 e 4. 32,2 gli ultimi 4. Sempre in vantaggio 1-2 Gioia. Premia il suo esterno Odile. Dietro i due Nozmoc Rivarco con Alato Non Mi Prendi, DBM. Poi Nemes Bypass con in cuori One Way, Lulù. Mosse contro mosse ma al momento. Leader resta il favorito l'1-2 Gioia. Passaggio davanti alle tribune con l'1-2 Gioia sempre all'avanguardia. in seconda posizione all'esterno, sempre il numero 12 Odile. 31,6 il secondo parziale. Terza di dentro, Nozmoc Rivarco. Quarta in fuori, Non Mi Prendi, DBM. Poi linea Nemes Bypass e One Way, Lulù. Mentre si è ricongiunta anche Overmed HP. Sempre all'avanguardia l'1-2 Gioia. Così al paletto degli 800 conclusivi. 31,1 per il terzo quarto. Sempre in vantaggio l'1-2 Gioia. In seconda all'esterno Odile. In terza Nozmoc Rivarco. Poi Non Mi Prendi, DBM. Quindi Nemes Bypass e One Way, Lulù. Poi Implicit B per linee esterne. Che per il momento però non persevere. Ora sposta Gioia Terruero in anticipo su Implicit B. Un momento irriconoscibile. All'avanguardia l'1-2 Gioia. Intanto continua la migliore One Way, Lulù. Che ha in scia Implicit B. Completamento della curva. Dopo frazione in 29,7. Ingresso in addirittura. Con l'1-2 Gioia all'avanguardia. In seconda posizione scatta il centropista. One Way, Lulù. Poi in recupero Implicit B. C'è il forte recupero di Implicit B. Ma l'1-2 Gioia va a concludere su Implicit B in terza posizione. One Way, Lulù. Su Nozmoc Rivarco. E su Non Mi Prendi, DBM. 29,5 il quarto conclusivo. 2,37,8 il tempo totale. Media al chilometro. 1,16,6. Presa la testa all'uscita dalla prima piegata. Si è mantenuto agevolmente in quota. Chiudendo appunto. A media di 1,16,6. Da favorito. 2,19 la sua quota. In seconda posizione. Il contropavorito Implicit B. Il contropavorito Implicit B.